Siamo molto dispiaciuti ovviamente da consiglieri e anche da cittadini perché questo è uno dei temi importanti della nostra città. Purtroppo la maggioranza è spaccata, anzi non esiste quasi più, non c'era il numero legale, noi l'abbiamo tenuto noi al primo appello. Poi abbiamo visto durante lo svolgesi del Consiglio Comunale con la relazione di 10 minuti dell'assessore, ridurre in 10 minuti senza un documento il problema e il concetto di viabilità e trasporti a Napoli. Veramente ci sembrava un po' troppo per poter continuare a discutere, non si sa di cosa perché avremmo voluto parlare di strada, avremmo voluto parlare di lavori, avremmo voluto parlare di linea 1, avremmo voluto parlare di cos'è muoversi in una grande città, avremmo voluto parlare di investimenti, di tecnologie, avremmo voluto che finalmente si dicesse cosa vogliono per Napoli di adesso e del futuro, cioè una pianificazione della mobilità. Ha parlato di dati del 2011, dell'Ista, di come si muovono tra pubblico, privato, gomma, ferro rispetto ad altro. Nel 2011, oggi siamo nel 2018, il modo di muoversi delle persone rispetto a 7-8 anni fa è completamente cambiato, soprattutto a Napoli dove c'è un incremento dei turisti, dove c'è 1.200.000 persone che transitano per Napoli dalla città metropolitana per lavoro la mattina. Allora, o si cambia registro e si pensa a un modo diverso di muoversi, di pianificare i lavori stradali, la mobilità, o altrimenti se non si pianifica niente e si danno due dati dicendo che va tutto bene, oggi dovranno venire a chiedere scusa ai cittadini, innanzitutto per il disagio che avranno. Si parla di 2019, i primi treni della metropolitana nuovi, ma da qui al 2019 che facciamo? Andiamo tutti a piedi, vanno 8 treni su 47 unità di trazione funzionanti qualche anno fa. 8 treni vuol dire che se se ne rompono altri 2 siamo a 6 treni, la terza città d'Italia viaggia con 6 treni nella linea metropolitana. Vuol dire che tra qualche mese andremo tutti a piedi, farà bene alla salute, avremo più gente in strada, ma non potremo più parlare di servizio pubblico dei trasporti. È significativo che il numero legale venga meno in un giorno in cui aspettavamo il sindaco per gli annunci rispetto a questo rimpasto in giunta. Evidentemente c'è un problema politico serio all'interno della maggioranza e il fatto che sia venuto a mancare il numero legale su un consiglio importante come quello sui trasporti è davvero un segnale emblematico molto preoccupante sulla tenuta di questa amministrazione comunale che ormai non può contare più su numeri solidi per poter andare avanti. E sui trasporti ci sarebbe stato tanto da dire. Basta pensare che oggi le scuole non sono state aperte, sono state tenute chiuse proprio perché per l'allerta meteo c'era il rischio che la viabilità cittadina si potesse bloccare per le annose vicende appunto della sicurezza stradale che manca su una rete fognaria che non viene manutentata in modo adeguato e su trasporti pubblici che fanno acqua da tutte le parti nel vero senso della parola. Basta pensare agli alagamenti continui della stazione della metropolitana ad ogni pioggia ma basta pensare anche ai continui malfunzionamenti dei treni ai problemi cronici che si hanno sul trasporto su gomma quindi ci sarebbe stato tanto di cui parlare purtroppo c'è qualcuno che pensa più alle poltroni che ai problemi dei napoletani.